Buongiorno a tutti, benvenuti e ben ritrovati in un nuovo video sul mio canale. Ragazzi, quest'oggi siamo qua per parlare di tennis. Quest'oggi siamo qua per il recap degli ottavi di finale che ci interessano. Gli ottavi di finale dei tre italiani nel Masters Mini di Miami. A noi, dei tre ottavi di finale, purtroppo solo uno è andato bene, quello di Yannick Sin. È quello che ci aspettiamo. Diciamo che tra i due restanti ottavi di finale, io vi parlo di quelli tra Masciac e Arnaldi e quello tra Alcaraz e Musetti. Potevamo sparare una vittoria di Arnaldi, non di certo, non di Lorenzo Musetti. Quindi, diciamo che una sconfitta era messa in preventivo. La seconda era in billico, purtroppo non è andata a favore di Arnaldi. Purtroppo non avremo il derby di Yannick Arnaldi in quarti di finale. Ma, resta un grande torneo quello disputato dal tennista italiano. Mi riferisco a Arnaldi. Prima di passare al video di oggi, però, io vi invito ad iscrivervi al canale. Siamo a 474, mi raccomando. Due live oggi. Tra oggi e domani, insomma, scusami, tra ieri e oggi. Due live. Un altro video, poi ci sarà un altro video, un'altra live oggi, un post partita. Mi raccomando, cercate veramente di sopportare. Io, in questi giorni, cercherò di fare di tutto per salire di iscritti, di utilizzazioni, di numeri, di arrivare a 500. È molto difficile da questo punto, perché sono 26 iscritti in 4 giorni. Sarebbero 6 iscritti al giorno. Non credo accadrà, però, mai dire mai nella vita. Io sono aperto a qualsiasi possibile porta. E mi auguro che magari ci arriveremo a marzo, per Pasqua. Sarebbe, ragazzi, entro Pasqua, dai. Un regalo di Pasqua sarebbe più che gradito, se Gianni ci vince Miami, i video, le live, insomma. Una cosa e l'altra, ce la possiamo fare. Quindi iscrivetevi per questo motivo. Dopo vi invito anche a condividere il video a più persone possibile. Ragazzi, la vostra condivisione ovviamente è graditissima. E sarei contentissimo coloro lo faceste. Vi invito anche a lasciare un bel like. Questo mi dà supporto. E dà supporto alla community che si sta creando attorno a questo canale. E io vi devo assolutamente ringraziare. Senza di voi non avrei nemmeno un iscritto. Non avrei nemmeno un centesimo di iscritti oggi. Quindi grazie a tutti. E dopo vi invito anche a commentare, facendovi sapere la vostra. Infine, ovviamente, anche quello di te la campanita. Ma questo è più per voi. Se volete seguire i video, attivate la campanita. Così non ve ne perdete nessuno. Allora, ragazzi. Parliamo delle tre partite. Se non sbaglio, Dimashak ne ho già parlato nel video di ieri. Che è uscito verso le due. Se non sbaglio. Allora, ragazzi. Sinner. E parliamo. Sinner giocherà alle otto in tutto ciò. Allora. Masiak Arnaldi. Masiak Arnaldi, ragazzi, è una partita a noi che non è andata in favore di Arnaldi. Oggi Arnaldi non era nella sua giornata migliore. Arnaldi non ha giocato il suo miglior tennis. Si è visto sin dall'inizio. Non è partito benissimo. E anche alla fine non è finito. Non ha finito l'incontro nel migliore dei modi. Questa, secondo me, è una chance per vincere questa partita. Io, ragazzi, con Marry e Masiak non l'avevo visto benissimo. Ma sappiamo come il tennis possa cambiare da una giornata all'altra. E vi faccio un esempio analogo che non ha assolutamente senso con me. Io sabato, quindi non mercoledì, quattro giorni fa, sabato io ho giocato una partita di torno alla mattina e ho fatto schifo. Ma ho giocato così male, non riuscivo a muovermi, non riuscivo a giocare. Gioco l'allenamento e gioco molto bene. Quindi, questo vi fa capire come nel tennis tutto possa cambiare nel giro di veramente pochi minuti. E un esempio lampante è la partita di ieri di Sinner contro Talon Grigspoor. Dall'altro ieri di Sinner contro Talon Grigspoor. Partita nella quale Yannick si è trovato in una situazione di svantaggio, una situazione molto difficile. Che ha ribaltato sia, perché è un tenista abilissimo sotto l'aspetto mentale ed è bravissimo a racimolare il più possibile in momenti di difficoltà, quando non riesce a racimolare molto. Ma anche perché c'è stata l'interruzione per Pioggia che lo ha fatto salire di livello e lo ha aiutato a riprendere il ritmo e a salire di ritmo. Poi, dopo l'interruzione, c'è stata questa pausa di soli mezz'ora, un'ora, 15 minuti, non so manco io quanto era. E grazie a questa pausa, un'ora credo fosse, quasi un'ora, grazie a questa pausa è riuscito poi a vincere. Comunque sì, ha portato per Arnaldi, 6-3-6-3, non sarà i quarti, non ci sarà nuovamente il quarto di finale del tutto l'anno, un Masters 1000, però resta un grande, grandissimo. Mettoli mi patte Go per 7-6-6-0, poi Jarry mi patte Rude abbastanza facilmente per 7-6-6-3, interessante questo upset, non ne voglio parlare perché insomma se no questo video dura 284.000 anni e vorrei evitare di fare un video di simile durata. Parliamo di Oconnel Sinner ragazzi, parliamo di Oconnel Sinner, e Oconnel Sinner ragazzi è partita interessante, partita più difficile di quanto dica il risultato per chi l'ha vista in live. Primo set molto difficile sin a che partito, che è partito con tratto, che ha avuto difficoltà, difficoltà a colpire la palla in modo pulito, difficoltà a pulire la palla con potenza, potenza che poi è riuscito a ritrovare e pulizia nell'impatto palla, l'impatto della palla che è riuscito a ritrovare successivamente. Infatti dal 2-4 c'è stato un parziale di ben 7 game consecutivi, parziale che poi alla fine è il risultato decisivo ai fini del match perché per la fine del parziale quel segmento di match è stato il segmento che ha portato Sinner a imporsi sul tennis austeniano e a qualificarsi alla terz'ultima fase del Masters 1000 di Miami. Parte subito con un break, quindi break in apertura per O'Connell, brutto gaming di battuta per Sinner 0-40 riesce a rimontare e arrivare a 40 pari, poi però alla quarta palla il break viene colpito e viene affondato da parte di O'Connell. O'Connell che adotta una strategia molto simile, ne ho parlato in live, a quella di Dan Evans contro Novak Djokovic a Montegro 2021, una strategia che consiste nel spezzare il ritmo tramite l'utilizzo di molti slice, tramite l'utilizzo esasperato di slice, quindi voleva spezzare il ritmo tramite l'utilizzo esasperato di slice, cosa che è riuscita all'inizio parzialmente ma che poi alla fine non è andata a riuscire. Infatti i primi 6 game sono risultati 4-2 per O'Connell, dall'inpo però c'è stato un dominio di Sinner. Perché in apertura è che O'Connell si è tenuto stretto fino al sesto parziale, poi nel settimo parziale, settimo decisivo non parziale game, scusatemi, arriva al break Sinner. Da quel punto in poi c'è stata una scia di game che si è protratta per 7 game, 7 game che è un parziale di 6-0-6-1 se lo traducessimo, 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 traducessimo credo si dica. Correggetemi ragazzi, purtroppo mi dispiace l'una, non ci sto capendo niente, ci non sono tanti, ci non sono, faccio proprio quello che si traducessimo, si traducessimo non è traducessimo, è traducessimo. E' un parziale di 7 game a 0 che se lo traducessimo in set, correggetemi se sto sbagliando, comunque sia, sarebbe 6-0-6-1, quindi un parziale dominato. E questo perché è accaduto? Perché O'Connell ha iniziato a fare qualche errore di troppo e Sinner ha calato quegli errori, lo slice ha iniziato a fare sì, faceva ancora una volta, faceva ancora fastidio, ma non troppo. Quindi O'Connell con questi slice ha dato molto fastidio a Sinner, ma non la sufficienza per batterlo. Inizio del secondo set, nel quale, sì, è il continuo della scia che si è protratta per 7 game, poi tiene i sottolinei di battuta Sinner e da lì non ha avuto poi grandissime difficoltà. Ha avuto chance per fare due break, ma non ha avuto grandissime difficoltà a tenere il sottolineo di battuta e da lì è stato un dominio di Sinner. Come magari ci aspettavamo per più tempo della partita, intanto Dimitro e Urkac si stanno decidendo il tutto al typewriter del quarto set, del terzo set. Il primo set ha vinto 6-3 da Urkac, il secondo 6-3 da Dimitro, adesso stanno al typewriter 2-1 Dimitro, servizio a Urkac. Nel terzo parziale credo che si decide al typewriter, ma al super typewriter, perché questa è una grandissima partita che comunque vada. La partita che possiamo definire senz'altro equilibrata, l'Alcaraz, forse quando finiamo questo video, sarà finita. Alcaraz batte Lorenzo Musetti per 6-3-6-3, partita che si è appena conclusa, non più di mezz'ora fa. Beh, Alcaraz è stato più forte, poco da dire, Alcaraz ha giocato bene, ha giocato in modo pulito, pochi errori, tanti vincenti. Non è stato magari la mia prestazione di sempre, Alcaraz per quanto ha scintille e tutto, ma oggi Alcaraz è stato più forte, è stato granitico. In un'ora 26 si è sbarazzato del numero 23 della classifica virtuale e lo ha fatto producendo un grande tennis. Alcaraz che vince per Musette partendo subito bene con un break in apertura. Il break in apertura ha causato da poche prime palle di Lorenzo Musetti, infatti ragazzi Musetti ha avuto, no, alla fine ha avuto tante, il 68% delle prime palle. Nel primo set poi ha avuto un 68%, no, 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 65%, il 71% delle prime palle di Lorenzo è stata bene, solo che Alcaraz è stato più forte. Pensavo che avesse messo in capo meno prime Musetti, però invece no, ero sbagliato, mi sono sbagliato, non è vero. Però a prescindere da questo, è un game di apertura che Alcaraz, nel quale Alcaraz brecca, si tiene il break stretto fino alla fine del set, poi alla fine viene imbreccato Musetti anche l'ultimo game, ma lì insomma il set pari va già a essere finito. Il secondo parziale invece che assume una piega un po' diversa, ma forse simile, possiamo definirla così, la piega assunta dal secondo parziale rispetto alla piega assunta dal primo parziale. Si tengono alcuni game di servizio, poi arriva il break al Caraz, il break al Caraz che sembrava aver messo il cosiddetto nail in coffin, come si diceva in inglese, sembrava essere il colpo di grazia nei confronti di Lorenzo Musetti, invece così non è stato perché è arrivato istantaneamente, immediatamente il controbrecht di Musetti, ma gli è arrivato anche il contro controbrecht di Alcaraz che ha messo, che ha, sì, che praticamente ha messo la parola fine alla partita. E si è imposto il Morsiano per 6-3-6-3. Alcaraz ragazzi è molto più forte di Musetti, come vi ho visto, Musetti poteva fare poco su una perpattere questa Alcaraz, non ha giocato né male né bene, insomma questa prestazione di Alcaraz, di Musetti contro Alcaraz non fa né caldo né freddo, veramente non ci dà molte indicazioni sulla condizione di Musetti. Musetti adesso arriva la stagione su terra, adesso Musetti ha ben più di una settimana per prepararsi adeguatamente al 1000 di Monte Carlo, perché non dimentichiamoci che adesso si arriva al 1000 di Monte Carlo, nel quale Musetti è da difendere i punti grossi, Musetti è da difendere 180 punti, che non sono pochi per un tennista del suo livello. Magari per Sin, per altri tennisti sembrano pochi, ma per Musetti non lo sono affatto. Quindi testa Monte Carlo, testa e basta da lavorare. Musetti ha dimostrato in questo torneo che il livello per giocare bene lo ha e può giocare anche meglio di così, ne sono fermamente convinto. Quindi forza Musetti, non lo supportiamo e mi auguro veramente che riesca ad avere una guerrera rosea e una parera che sia rispettosa delle sue potenzialità, una guerrera che rispecchi le potenzialità del giocatore. Tutto ciò, l'Ispionte che mi è anche uscito per quanto riguarda il Fanta femminile e a noi, va bene, così. Io non ho più molto tempo per registrare, ragazzi, questo video, questo tablet è pieno, manca un minuto di spazio. Vi ringrazio altissimo per il supporto, mi raccomando, come sempre, iscrivetevi al canale, lasciate like, condividete il video, commentate e attivate la campanina. Noi ci vediamo oggi con un nuovo video, oggi con il, non so se parlo, il pre-partita, ma sicuramente avrete la pre-action e post-partita, tutti e due ci saranno senz'altro, della partita di quarti finale del Miami Open tra il nostro tennista e Thomas Machac. A dopo, con un nuovo video. Ciao!